Aspettiamo ancora due minuti. Mi stanno bene i capelli? Cioè, devo metterli più... Non stiamo girando, puoi rispondermi. Mi stanno bene così o di là? Così? Proprio di là. Madonna, mi sento troppo a disagio, nel senso che... Mi fa male tutto, mi sento una merda, non riesco a... Ancora? Scusa, visto che ho già questo, non puoi evitare di mettermi questo qua addosso? Perché mi viene un po' di oppressione, cioè, mi sento un po'... Ancora due minuti? Ancora, non è giusto! No, devo farcela una sola! Scusa, eh! Vedi? Ma sa star concentrati? Mi sono spostata i capelli? Oh, ma te l'ho detto un secondo fa! Cioè, sì, gentile, per favore, cioè, non è... Mi sto agitando, ragazzi, scusate. Mi sento... Cioè, mi sento... Ho il ciclo! Ho cazzo da dire? Eh? Non andiamo a mangiare gli zuccheri, non devi far mangiare queste cose, perché mi fanno male, mi fanno male! Allora, ci siamo? No, non me lo togliere. No, un minuto. Un minuto? No, non me lo sto masticando, ma ce lo sto masticando! C'è un bicchier d'acqua o qualcosa, ragazzi? Scusate. Trento secondi. Scusate. Ok, ce la faccio, ce la faccio, ce la faccio. Venti. Dieci. Ragazzi, mi viene da piano, scusate. Cinque, quattro, tre, due... No, ragazzi, scusate. Ho solo il ciclo. Anzioni! No. Asiate mi il noto. Sto cozo, cazzo! No, no, no. 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 Grazie a tutti.